Nome e cognome Gerardo Iannelli, data di nascita 30 aprile 1950, luogo Montevarchi, professione attuale imprenditore nel settore delle calzature e della pelletteria, titolo di studio, laurea in filosofia. Perché ha deciso di candidarsi? Io ritengo che qualsiasi cittadino, ma soprattutto un imprenditore, anche se piccolo, non possa fare a meno di interessarsi delle problematiche civili e sociali dell'area, della zona in cui opera. Devo dire e ci tengo che non è stata un'autocandidatura, ma è stato un invito, una proposta che ho ricevuto da una parte, da una componente importante del PD di Montevarchi. Per i valori in cui credo, per la mia formazione, per la mia coscienza civica e per la mia predilezione agli impegni importanti, alle sfide, non sono riuscito a dire di no. Ho sempre lottato per il lavoro e credo di aver dato un contributo alla crescita economica del paese, della città. Per questo sono disposto a rinunciare anche a una parte della mia vita privata e professionale per mettere a disposizione della città la mia esperienza, per poter portare un metodo nuovo di lavoro nell'amministrare la città e per questo ritengo di poter recepire consensi, ottenere consensi da un folto gruppo della cittadinanza, di poter avere un elettorato vasto, trasversale, di tante categorie e quindi di poter rappresentare le aspettative di una grande parte della popolazione di Montevarche.